Le opposizioni criticano quasi sempre, quindi anche fisiologico, il lavoro delle opposizioni. Io invece sono molto soddisfatto, il Comune ha rispettato i tempi, la Giunta ha fatto il suo lavoro, la maggioranza ha tenuto in modo ottimale e credo che andrebbe ringraziata questa amministrazione e andrebbe sostenuta adesso da chi sta in Parlamento perché finalmente ci possa stare una manovra economico-finanziaria diversa, perché noi in questi anni abbiamo fatto un lavoro incredibile per tenere i bilanci, per non far fallire aziende partecipate, per risparmiare, per non licenziare nessuno e non mettere sul mercato i servizi essenziali. L'abbiamo fatto con un Comune in predissesto, un Comune indebitato fino all'inverosimile, con tagli mostruosi che in questi anni sono stati messi in campo, quindi dall'opposizione ci servono proposte, suggerimenti, se del caso indicazioni di strade alternative, ma non critiche fino a se stessi. Invece io credo che adesso si apre una fase importante con il Governo e con il Parlamento e questo è il tema. Noi anche nell'opposizione abbiamo due espressioni importanti come partiti delle rappresentanze parlamentari. Abbiamo una deputata del centrodestra e una deputata del centrosinistra. Devo dire che la Carfagna sta seguendo, ha presentato anche un'iniziativa parlamentare e credo che il Governo debba fare la sua parte e tutte le forze parlamentari non possono che sostenere le istanze dei Comuni, perché le nostre istanze sono per garantire servizi più efficienti a cominciare dai trasporti, dai rifiuti, per garantire i bisogni dei nostri cittadini e per ridurre le disparità del nostro Paese. Queste non sono solo le istanze di Luigi De Magistris, di tutti i sindaci. Ecco, questo vorremmo un po' di coesione in più nei prossimi giorni. Noi stiamo facendo la nostra parte, io ho fatto tanti incontri in questi giorni, compreso questo fine settimana, anche di domenica, e altri ne farò nei prossimi giorni per portare a casa un grande risultato nell'interesse di Napoli e dei napoletani e degli abitanti di questa città.